Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro Bertola e qua davanti a voi avete il Moto X uno dei telefoni più sorprendenti degli ultimi mesi, è arrivato in ritardo in Italia per difficoltà di commercializzazione da parte di Motorola che tra l'altro non è che lo commercializzi lei stessa in Italia ma si è affidata a Tech Data Moto X quindi un dispositivo che rilancia la casalata anche da noi, non forse come sta facendo il Moto G ma con comunque ottimi risultati manca il Moto Maker, piccola nota, il Moto Maker è la piattaforma web che ci permette di configurare l'estetica del nostro dispositivo Moto X in Italia e anche nel resto d'Europa non è disponibile tale piattaforma e quindi il Moto X ce lo dobbiamo prendere un po' con poche varianti non come le oltre 2000 varianti che è disponibili col Moto Maker ma andiamo a vedere in sostanza cos'è questo Moto X scatola, scatola piuttosto grande considerando le dimensioni limitate del Moto X cavetto USB, micro USB, carica batterie da viaggio e spillo per aprire lo slot per la micro SIM non è presente le cuffie auricolari in questo dispositivo sinceramente scelta che è piuttosto opinabile come al solito Motorola ma come la stessa Google danno per scontato che noi abbiamo a disposizione delle cuffie ma magari non abbiamo a disposizione degli auricolari qua davanti a voi eccolo qui il Moto X molto compatto, molto simile a Moto G estremamente compatto un telefono d'altri tempi nel senso ormai tutti tendono ad avere telefoni ultra sottili e ultra grandi il Moto Motorola invece ha ancora limitato le dimensioni e ha creato qualcosa di leggermente diverso ci troviamo infatti di fronte a un'altezza di 129,3 x 65,3 mm di larghezza per 10,4 mm di spessore il tutto in 130 grammi di peso allora struttura molto solida materiali veramente resistenti e purtroppo dispiace non poter godere il Moto Maker perché ci sono una scelta di materiali praticamente sconfinata parte frontale è piuttosto classica bordi leggermente arrotondati piacevoli parte sinistra della cornice è quasi pulita troviamo solo lo slot per la micro SIM a destra troviamo il bilanciere del volume il tasto di blocco sblocco in alto jack per le cuffie auricolari e sotto troviamo il connettore micro usb parte posteriore non si vede tanto però qua c'è la griglia per l'altoparlante di sistema nascosta non si vede tanto scelta azzeccata anche se essendo nella parte posteriore un po' viene schiacciato dallo stesso telefono abbiamo poi la fotocamera accompagnata dal flash led è questo bellissimo logo motorola che può anche servire per tenere lo stesso smartphone infatti tenendo un dito sul logo leggermente inarcato all'interno potremmo avere una miglior presa sullo stesso quindi ottimo lavoro non mi ricordo se vi ho detto il peso 130 grammi ben bilanciato molto comodo SIM card che vi ho detto micro mi sono sbagliato è nano 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 SIM in questo caso scelta abbastanza azzardata da motorola dispositivo che non ha batteria rimovibile non si può togliere neanche la parte posteriore del dispositivo quindi batteria che dobbiamo tenerci quella che abbiamo allora come potete vedere prima di passare all'hardware puro e crudo volevo farvi vedere la modalità intelligente di notifica come potete vedere in questo momento il telefono è in fase di riposo ma se lo prendo lui automaticamente capisce che io l'ho preso nel caso ci fosse qualche notifica lui me la riporterebbe con lo slide a sinistra slide basso scusate mentre per sbloccarlo normalmente potrei fare un altro tipo di slide eccolo qui allora display vorrevo passare anche all'hardware perché l'hardware è particolare come lo stesso smartphone in sostanza abbiamo uno Snapdragon S4 Pro Plus da 1.7 GHz come processore principale poi abbiamo un piccolo processore proprietario Motorola che gestisce tutte le operazioni in background dall'ascolto continuo a proprio la notifica intelligente come avete appunto visto in questo momento processore che quindi permette un risparmio energetico notevole e di non far spendere troppo il processore principale che serve solamente per la gestione vera e propria del telefono quando noi lo usiamo display display che è un AMOLED piuttosto piccolino considerando i concorrenti un AMOLED da 4.7 pollici 1280x720 la risoluzione leggermente limitata questa risoluzione infatti è una delle maggiori critiche che si possono muovere a questo display però è un display che rimane con un angolo di visione elevatissimo neri bellissimi e estremamente luminoso intanto che parliamo di display aumenta la luminosità veramente luminoso è piacevole veramente piacevole rimettiamo una luminosità senza ceccarvi volevo farvi vedere un po' l'interfaccia chi ha un Nexus o chi usa un Android quasi puro vedrà subito come KitKat in versione 4.4.2 si presenti praticamente di base Motorola infatti a parte le sue applicazioni e le sue personalizzazioni in background a livello estetico non aggiunge praticamente niente abbiamo la doppia tendina classica di Android la gestione in home page non abbiamo Google Now perché manca l'Answer Now però abbiamo il drawer esattamente come lo conosciamo applicazioni widget e il Google Play Store come scorciatoie anche la tastiera se noi andiamo a vedere la parte dei messaggi in questo momento non c'è Hangout se no sarebbe sostituita però la tastiera è quella di base di Google estremamente veloce tra l'altro è uno dei touch più reattivi che abbia provato nell'ultimo periodo veramente veloce è un piacere scrivere con lui soprattutto col piccolo feedback tattile che dà il senso di quando noi andiamo a cliccare con il nostro dito sulla tastiera dialer anche qua basilare non troviamo personalizzazioni e come browser web troviamo Chrome passiamo però agli elementi distintivi prima di passare all'ascolto continuo la chicca di questo dispositivo vorrei parlarvi di Assist Assist che è una funzione molto utile funziona molto bene che praticamente ci consente di impostare particolari comportamenti in particolari situazioni per esempio ci troviamo alla guida al volante gli indichiamo al telefono guarda comunicami messaggi tramite comunicazione vocale quindi arriva una notifica arriva un sms tac lui direttamente mi dice mi detta il messaggio molto comodo come potete vedere inoltre c'è anche l'ascolto della musica noi magari utilizziamo lo smartphone il Moto X in questo caso come riproduttore musicale principale in macchina cosa che tra l'altro con jack lui non dice con le cuffie ma con jack cuffie quindi tramite il jack magari attaccato all'autoradio o via bluetooth quando noi partiamo lui in automatico riprodurrà la musica in modo da partire in automatico magari con l'ultima playlist l'ultimo brano ascoltato anche questo funziona molto bene riunione lui si interfaccia con calendar se siamo in una riunione va in silenzioso e magari possiamo anche impostargli delle risposte automatiche se in quel momento ci arrivano degli sms riposo riposo prevede in pratica la modalità silenzioso da una certa ora a una certa ora questa modalità un po' meno intelligente cioè non possiamo impostargli un range di tempo però funziona comunque molto bene andiamo ora a scoprire l'ascolto continuo ok google now trovami il telefono scusate ho usato la quale sbagliata ok google now trova il telefono non mi ricordo ok google now ok google now come potete vedere lui in automatico si sblocca noi lo stiamo tenendo da qualche parte in casa da qualche altra parte non lo troviamo se io pronuncio per esempio aiuto ok google now aiuto aiuto allora questi sono i comandi che possiamo fare imposto promenoria fai domande prova le azioni vocali possiamo ricercare i risultati questo è tutto quello che possiamo fare con lo sblocco intelligente del telefono questa è un'azione molto esosa a livello energetico perché lui il telefono è continuamente in ascolto ci consente soprattutto in auto magari e anche con diverso rumore di fondo funziona molto bene di chiamare un contatto di poter inviare un sms mettere un appuntamento per esempio ok google now inserisci appuntamento alle ore 17 40 domani ora capito spedisci proviamo ancora una volta ok google now invia sms accettiamo mamma ora noi abbiamo più contatti altrimenti potrebbe direttamente passare al contatto queste sono tutte azioni automatizzate ci va un po' di tempo per capire le query cioè la sequenza di parole giusta da dire motorola si appoggia a google now quindi non è un servizio suo ma inserisce una tecnologia lato hardware che gli consente di funzionare sempre questo telefono comunque dimostra come google sia praticamente stata l'artefice di sia questo moto x sia del moto g l'interfaccia infatti minimale di android super aggiornata ci mostra subito come il il focus sia stato proprio android puro aggiornamenti veloci fluidità di sistema e inoltre azioni verso i servizi di google non ha aggiunto niente che potesse sorpassare o replicare dispositivi o applicazioni di google per esempio se voice di samsung fa esattamente quello che dovrebbe fare google now con qualità altalenante scelte appunto che derivano dalla acquisizione e poi cessione di motorola altre caratteristiche volevo farvi vedere la parte multimediale galleria album download allora il telefono si è dimostrato sin da subito un po' problematico nella riproduzione degli degli avi avi che in effetti non si sono fatti non siamo riusciti a farli riprodurre dalla galleria cosa che con qualsiasi lettore esterno può essere assolutamente superata però è da segnalare questa cosa l'MP4 nessun problema mentre gli avi non ci vengono neanche visualizzati nell'elenco questo è il video presente di default questo è di default nelle nostre prove questo è un avi che abbiamo abbassato di qualità e siamo riusciti a visionarlo altrimenti se non l'avessimo abbassato di qualità non riuscivamo a visionarlo non sappiamo se è il problema di questo avi ma con altri telefoni non abbiamo avuto problemi strano comunque questo tipo di difficoltà volevo mostrarvi il video in alta definizione ok ve l'ho fatto rimanere un po' di più per farvi ascoltare anche l'audio audio che è estremamente buono adesso ascoltiamo anche il il nostro solito brano audio che è estremamente buono pur essendo molto nascosto l'autoparlante cosa invisibile la mia raccolta ok allora ascoltiamo Shakira il solito brano rabbiosa ecco allora come potete sentire l'audio è veramente buono sia nei toni alti che nei toni bassi naturalmente il tono basso non è profondo come una cassa dedicata però qualitativamente è molto buono ritornando al video non si nota la risoluzione non in full hd anzi il display si dimostra comunque molto buono e i neri veramente profondi troviamo anche spot light che è un piccolo è un piccolo praticamente accessorio simpatico di realtà realtà aumentata come potete vedere è un giochino che ci che ci aggiunge motorola dove dobbiamo cercare l'insetto il simpatico animaletto tramite la realtà aumentata scorrendo il telefono niente di particolare ma niente di particolare comunque è un'opzione carina andiamo sul su chrome e navighiamo su nexus lab eccoci qua allora navigazione estremamente veloce e fluida come potete vedere il sito si adatta benissimo al 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 telefono abbiamo qualche rallentamento forse sta caricando qualcosa in background però navigazione più che fluida proviamo ad andare per esempio su questa notizia del G3 appena pubblicata dove vediamo che il rendering è rapido pinci to zoom anche e la gestione degli elementi interattivi è piuttosto veloce quindi assolutamente niente da dire fotocamera fotocamera che ha i suoi alti e ha i suoi bassi sinceramente forse un po' più bassi per un dispositivo che ha comunque un sensore da 10 megapixel sensore da 10 megapixel che fa il suo lavoro con tanta luce un po' lento nello scattare purtroppo non c'è nella concorrenza troviamo di meglio sinceramente allora abbiamo tutte queste impostazioni che possono essere visualizzate tramite lo slide sinistra destra dello schermo mentre facendo così possiamo vedere direttamente la galleria 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 foto slide allora le funzionalità della fotocamera sono abbastanza non troviamo tante modalità guidate abbiamo alcune modalità tipo scuoti rapidamente il dispositivo per avviare la fotocamera questa è molto carina però non abbiamo tutta la serie di scenari di azioni preimpostate che abbiamo per esempio nella concorrenza abbiamo lo slow per i video che funziona estremamente bene l'HDR automatico anche questo funziona benissimo però mancano tutte quelle funzioni aggiuntive che ormai possiamo scaricare direttamente tramite la google tramite anche la google camera però motorola da questo punto di vista magari poteva fare qualcosa di più a livello prettamente di fotografie guardando una foto di un panorama vediamo come il dettaglio del sensore a 10 megapixel sia comunque buono però la luce catturata è sempre poca questa è un'immagine catturata con abbastanza luce come potete vedere i colori sono piuttosto spenti e ci troviamo di fronte a poca presenza di luce quindi riassumendo moto x bocciato promosso beh certo è arrivato in europa tardi è arrivato a un prezzo buono adesso lo si trova a 330 350 euro online che dire li vale sì li vale più che altro per la struttura molto buona per l'altoparlante estremamente potente e per quelle due funzioni aggiuntive che motorola ha inserito funzioni aggiuntive che neanche si vedono però ok google now funziona assolutamente bene come potete vedere voi stessi e la gestione intelligente delle notifiche è un plus che può servire in molte occasioni abbiamo anche assist che funziona estremamente bene anche dall'applicazione certo a livello hardware non ci troviamo di fronte a un mostro di potenza il motomaker manca e la sua presenza di sicuro avrebbe fatto fare il boom a questo telefono perché alla gente piace avere un telefono sì conosciuto magari simile agli altri però personalizzato personalizzabile avrebbe sicuramente venduto molto molto di più se avete domande potete farcele sia nei commenti di youtube ma soprattutto nei commenti dell'articolo vi risponderemo subito immediatamente un saluto da Alessandro per NexusW di un saluto di un saluto di un saluto Grazie a tutti